l'una e dieci qualche bullone allentato sbatteva dentro la pompa di calore un ritmo sincopato e ipnotico che alla lunga stancava lupa dormiva accucciata sul divanetto di pelle la questura era silenziosa nessuno in mattinata aveva bussato alla sua porta il telefono era rimasto muto la giornata si trascinava verso il suo naturale epilogo con una stanchezza ottoagenaria gettò la cicca dalla finestra e andò alla scrivania da natale non aveva avuto più notizie di sebastiano l'amico fraterno scomparso ormai da mesi dagli arresti domiciliari brizio e furio avevano provato a cercarlo per qualche settimana poi a metà gennaio avevano mollato di colpo se deve tornare torna aveva sentenziato brizio e in fondo rocco pensava che avesse ragione